E benvenuti in un nuovo video Allora oggi siamo su Fortnite per la parte 5 e finalmente ultima del mio armadietto Ovvero le coperture Allora in tutto c'è un 75, partiamo immediatamente Doom in corsa, dovrebbe essere quella dei... non viene il nome? Di Rocket League Acciai Arcano, ci sono 14 di Doom Blu Morfico, dovrebbe essere di Mystic Poi, Feroce, che dovrebbe essere di Wolverine Poi, capitolo 3, stagione 1, questa season Che è di Spider-Man Poi, season 14 Luce stellare, Thor Mercenario, dovrebbe essere di Deadpool Sì, no, dovrebbe essere... è di Deadpool, bella sta copertura, veramente raga, bellissima Della season 12 Della skin segreta facendo missioni Poi, questa qua, che non mi fa vedere il nome, vabbè, comunque è di Storm Season sempre 14 Poi, season 14... ah, ovviamente è Pass Battaglia Eh... season 14... Pass Battaglia Grut Poi, season 14... perché non mi fai vedere i nomi, mannaggia a te? Di Iron Man Sì, bella, dico... non l'ho mai usata, eh Eh, però è bella Soltanto che non l'ho mai usata Poi, quella di Shulk Non ce l'ho neanche tra i preferiti, quindi... Eh... boh, non mi piace sinceramente Non è né bella né brutta Perché... C'ha pochissime parti in viola Il resto è tutto verde Ah, bella Poi, questa qua, che se non mi sbaglio, era gratis con party royale Però non mi ricordo come si otteneva gratis Comunque era gratis Questa che dovrebbe essere della scorsa season al cubo Bella, bella L'ho usata per quasi tutta la season Da quando l'ho sbloccata, ovviamente, intendo Non ho la più pari della... Season 15, arzana del cacciatore Del cacciatore brutta Perché non mi fa vedere il tuo nome Vabbè, non lo so Dai Boh Poi, questa qua, di mia ospa, che dovrebbe... Che è della season 12 Brutta Mi dispiace, ma non mi fa impazzire Poi, season 15 Pass battaglia Poi... Mmm Sarò per dire una cazza d'immensa Ma forse season 13 di Jules, ma non è... Mmm, no Poi Season 18 Scorsa season Nel pass battaglia Dell'unicorno Poi... Questa che dovrebbe essere della season 16 Se me lo fai vedere... Forse mi aiuta ancora di più No Questa che non... Non mi ricordo in realtà come si sbloccava Non so neanche sarà del pass Comunque season 12 Non so perché c'erano neanche tre preferiti Perché è bella Poi... Questa qua che dovrebbe essere o della season 14 O della season 18 Cuor feroce Season 15 Desideri del cuore Non ho visto Ma che cacchio è sta copertura? Poi questa Season 15 Poi questa che la sto usando ancora Perché raga È bellissima Era gratis Se entravi Per un po' ovviamente Era gratis Era gratis In season 12 Se entravi Fino a... Fino a un determinato... Da un giorno Fino a un determinato giorno Te la davano gratis Bellissima comunque Assomiglia molto a magma Quella... Come si dice? Quella copertura da 700 VB Però no Non è quella Fiore Zer Season 16 Bella Molto bella Vabbè La copertura di fondazione Season questa qua Fuori della furia Season 14 Fuori bollo Brutta Season 16 Futuro profondo Questa season Goma problematica Di gumbo Sempre questa season Poi questa dovrebbe essere Season 15 Infatti Questa season 17 Bella Però mai usata Kaboom Ma che cacchio Da dove è uscita fuori Questa copertura Va bene Non ho la più palida idea Season 17 Vabbè Forse questa Ma perché poi dall'immagine rossa E qua è viola Comunque penso sia season 18 No 17 No 18 No che sa di 18 Poi questa che era Gratis O della season 15 Quei regali intendo O della season 15 O della season 18 19 Maledizione Maledizione Dell'accolto Season 16 Margine Immaginario Season 17 Mimedica dimensionale Bella Carina Non ho la più palida Di che skin sia Però è molto bella Nebbi arcobaleno Ni Ni Più o meno Non mi fa impazzire Anzi Penso che non mi piaccia molto Poi questa che penso sia season 16 Poi questa qua Che è di Oceania Della season 13 Oceania come skin Vabbè Adesso non c'entra niente la skin Comunque Oceania come skin Non mi fa impazzire Però Manco la copertura Se devo dire la verità Però Sta cosa che Il colore rosa Va su e giù Che supera un po' Il colore blu Insomma è carina Però St'idea Non la copertura Se no Non mi piace Come copertura Fammi vedere No No ma penso sia gratis Ah Forse È la copertura Della season Che è uscita Questa qua Dovrebbe essere Questa qua Vediamo vediamo Se è questa Per Spera Adastra Immaginiamo Forse questa Adesso Dove eravamo No Sono andato troppo Eccomi Eravamo qua Questa qua Della season 17 Di Rick Di Rick Portare E la guglia E la guglia Siamo 16 Mancake Bella Sta copertura Ma allora Ragazzi Sono un botto di copertura Che non ho mai usato Però Sono bellissime Comunque Bellissime Non è la più Paride Ok Siamo 17 La riconosco Dall'Ufi Questa dovrebbe essere O season 15 O season 12 Penso più Season 15 Però eh Questa Season 13 Non 12 Eh Ho presente la skin Nella mia testa Ma non mi ricordo il nome Tocco del lodo Di questa season Di Della season Della skin Questa qua Di Shanta Adesso Ritorniamo a noi Eravamo 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 qua Poi questa qua Che dovrebbe essere La season 14 Del Terzo Con Plano di Fortnite Ok Vampalaser Season 17 Vi andate Del viceverso Di un 18 I labs Season 15 Zampino del gatto Season 16 Ziggy Season 17 Che in realtà Come si Come skin Ziggy E brutta Cioè a me non mi è piaciuta Invece la copertura È molto bella Season 15 Gratis LGBT Arcobalena Selvagio Season 17 Cubigidia Che Dovrebbe essere Dovrebbe essere Gratis Penso Una roba del genere O con delle missioni Destiny Denim Season 12 Di Sky Ego Fatale Season 16 Bella L'ho usata per un po' Non tanto però Fenomeno Felino Carina Di git Il tesoro Di nomade Lana Gratis Di Mezz'inverno Di Season Poi Luna Galante Penso Del pass Memoria Ombra di Mida Bellissima Sto Copertura Mina Vacanti Di questa season Ombra di Mida Che forse era gratis Con qualche missione Che si faceva Sull'incubo 2020 Su una modalità di gioco Programma spaziale Per primati Poi Rosso Vivo Bellissima Scagnozza Brutta Sigilo Ombra Che questa era gratis Con delle missioni E spia contro Banana Season 12 Di agente Bananita E quindi Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Che è l'ultima parte Del mio armadetto E noi ci vediamo Non lo so Con un prossimo video Ciao Ciao